... Trasportava droga, ha forzato al posto di controllo dei carabinieri ed è fuggito. Dopo un breve inseguimento è stato fermato, è accaduto mercoledì scorso a Chieri alle 22.30. I militari hanno fermato un furgone guidato da un 29enne residente in provincia di Asti. La perquisizione ha permesso di trovare tre sacchi di plastica neri contenenti quasi 8 kg di marijuana e un bilancino di precisione. Il giovane ha confessato di aver prelevato la droga da un suo amico, forse socio in affari, un 22enne cameriere residente in provincia di Asti. Il droga express non ha detto a chi fosse destinata. La perquisizione a casa di quest'ultimo ha permesso di sequestrare 3 kg di marijuana in camera da letto, un armadio in tessuto adibito e sigattoio artigianale e due bilancini di precisione. I due fermati sono stati arrestati per possesso di droga.